Ritorniamo in diretta questo sabato 4 maggio 2024 e come dicevamo nella pagina di anteprima ci corre non l'obbligo ma il piacere di ricordare Monsignor Michele Castoro a sei anni dalla sua scomparsa, una figura che ha lasciato il segno nella nostra comunità San Giovanni Rotondo in tutta la diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo appunto dove è stato Vescovo e la sua presenza discreta e garbata ha colpito i cuori di tutti stamattina mentre stavamo preparando la scaletta in regia Vito Ciavarella mi raccontava come lui stesso ha sperimentato la grande umanità di quest'uomo che ricordava il tuo nome anche se ti vedeva solo una volta, solo per qualche istante ecco una piccola testimonianza se vogliamo anche spontanea non voluta che ci ricorda la bontà di questo uomo di Dio. Oggi per ricordare lui il suo operato, il suo profilo anche umano oltre che religioso, abbiamo in collegamento con noi il dottor Leandro Cascavilla, vice direttore dei gruppi di preghiera di Padre Pio che è ad Assisi dove è andato a ricaricare le batterie spirituali come mi ha detto proprio lui. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete in ascolto. Grazie per la disponibilità che ci dai stamattina, perdonaci se ti rubiamo qualche minuto di tempo al tuo sabato mattina ma sono sicuro che fa piacere anche a te ricordare Monsignor Michele Castoro. Sì, lo faccio con grande commozione. Padre Monsignor Castoro è stata per me una figura indimenticabile. Qui mi trovo in un luogo santo, ma Monsignor Castoro è stato un santo vescovo, un santo vescovo, un pastore buono, pastore saggio, pastore prudente e umile. Sono i primi aggettivi che mi vengono in mente per ricordare la sua bellissima figura. La bontà la manifestava nel suo sorriso, un sorriso dolcissimo, un sorriso disarmante. La sua saggezza nelle scelte e nelle decisioni pastorali, sempre puntuali e risolutive. La sua prudenza, la sua prudenza la esprimeva nella maniera di affrontare anche i problemi più spinosi senza mai perdere la calma, senza mai alterarsi. E poi la umiltà, una virtù rara che lui esprimeva veramente nel suo servizio, servizio a tutti e a ciascuno, come egli amava dire quando si rivolgeva all'assemblea. Tutti e a ciascuno in maniera particolare per i sofferenti e gli ultimi. Grazie, grazie dottore davvero. Credo che hai fatto il centro con queste poche parole, però hai messo a fuoco in maniera nitida un'anima davvero bella che lasciava trasparire con la sua semplicità, la grande umanità e l'amore di Dio, l'impronta di Dio su quest'uomo che stiamo vedendo alcune immagini emblematiche della sua vita. In questo momento lo vediamo accanto a Papa Francesco. Papa Francesco che lui stesso accolse il 17 marzo 2018 a San Giovanni Rotondo nel corso della sua visita pastorale e con lui fece anche, oltre che partecipare alla celebrazione, fece anche il viaggio nella Papa Mobile che lì da dove il Papa arrivò in Viale della Gioventù, lo stadio Antonio Massa di San Giovanni Rotondo, ecco lo stiamo vedendo con le nostre immagini di repertorio, poi raggiunse appunto le chiese di padre Pio attraversando tutta la città. Monsignor Michele Castoro che ebbe appunto il privilegio di chiacchierare con un altro grande uomo, Papa Francesco appunto. Dottore che cosa ricordi tu di quel giorno? Certo, certo, io ho collaborato con Monsignor Castoro alla guida dei gruppi di preghiera ed è stato per me un onore e un privilegio essere al suo fianco. Due momenti particolari che sono apparsi anche nelle immagini, il giubileo della misericordia, il 6 febbraio del 2016 quando un fiume di gente veramente si raccolse nella piazza San Pietro, i gruppi di preghiera che partecipavano al giubileo e come hai ricordato anche la visita del Papa a San Giovanni Rotondo. Dottore ti chiederei soltanto di guardare nella telecamera del telefono così possiamo guardarti, vederti anche noi in volto. Il luogo mi distrae, eccomi. Stavo dicendo degli anni che ho passato accanto a lui alla guida dei gruppi di preghiera perché Monsignor Castoro ha amato moltissimo i gruppi di preghiera e l'opera di Padre Pio, anche la casa sollievo della sofferenza di cui è stato presidente e direttore dei gruppi di preghiera. Io ricordo con commozione grandissima l'ultima visita che io ho fatto a Monsignor Castoro sul letto di morte. Lui mi ha accolto, accoglieva tutti, non diceva di no a nessuno. Tutti quelli che lo chiedevano li ammetteva alla visita sul suo letto di morte. Quando è toccato il mio turno io mi sono inginocchiato e lui ha cercato di baciarmi la mano. Lo faceva con tutti, con tutti i suoi collaboratori. L'espressione di un'umiltà grandissima. Io mi sono commosso e ho detto padre devo io baciarle la mano e poi lui mi ha guardato, mi ha chiamato amico perché per me Monsignor Castoro era il pastore, era il padre, era il maestro, era il fratello ed era anche l'amico. Lui mi ha chiamato amico e poi mi ha detto abbiamo voluto tanto bene ai gruppi di preghiera e abbiamo cercato di portarli in alto. Sono le ultime parole che mi ha rivolto e che io custodisco nel mio cuore perché io Monsignor Castoro lo tengo sempre presente vicino a me e sono sicuro che lui dall'alto continua a intercedere per i gruppi di preghiera e per l'opera di Padre Pio che in vita ha amato tanto. Dottore noi ti ringraziamo veramente di cuore per questo ricordo che è molto emozionante perché è estremamente sentito, lo percepiamo appunto anche dal tono della tua voce. Ci hai fatto un bel regalo perché ci hai fatto rivivere il ricordo di un uomo straordinario che ha saputo guidare uno dei lasciti più importanti che ci ha fatto Padre Pio da Pietrelcina ai gruppi di preghiera appunto insieme alla sua opera Casa Sollievo della Sofferenza. Ringraziandoti veramente di cuore io ti lascerei alla tua Assisi stamattina e niente la gratitudine ecco di averci dedicato qualche minuto per ricordare Monsignor Michele Castoro a sei anni dalla sua morte e tanta. Grazie dottore. Ringrazio io voi veramente di cuore. Buon proseguimento. Buon proseguimento di giornata a te, ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo al tuo ritorno magari negli studi di Padre Pio TV. Buon proseguimento di giornata. Allora io completo il ricordo di Monsignor Michele Castoro ricordando a tutti quanti voi che stasera nella cattedrale di Altamura alle ore 19 ci sarà una santa messa in suo suffragio. Detto questo ci faceva veramente molto piacere a recuperare il ricordo di Monsignor Michele Castoro. La regia ci ripropone nuovamente uno degli scatti che ha caratterizzato quella giornata del 17 marzo 2018 in occasione della visita pastorale di Papa Francesco che lui accolse e come dicevamo prima accompagnò poi in santuario stando accanto al pontefice nella Papa Mobile. Purtroppo ecco di lì a non molto la malattia di Monsignor Michele Castoro avrebbe prevalso sulla salute e ce lo avrebbe strappato ma resta indelebile nei nostri cuori la sua testimonianza, il suo operato ragion per cui stamattina ci sembrava doveroso dedicargli questo momento in suo ricordo. Monsignor Michele Castoro siamo sicuri che ecco anche noi ci velli dall'alto, velli dall'alto anche noi e noi siamo felici di questo. Molto bene adesso ci fermiamo per qualche istante poi ritorniamo insieme per riprendere la marcia di Just Today che si snoderà attraverso le altre rubriche che caratterizzano il sabato di Just Today appunto e senza mancare di alcuni collegamenti per andare a toccare alcuni temi di attualità e per ritrovare i vostri scatti che stanno continuando ad aggiungere numerosi al nostro numero whatsapp 331 737 8033 quindi a tra pochissimo non andate via.